Arrivati alla parte 3 iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio, davvero vi ho fatto qualche esempio già legato alla scuola, quindi siamo già on topic e sul pezzo, però adesso parliamo di privacy a scuola in generale, quindi non sto ancora parlando strettamente di didattica a distanza, quindi anche l'attività che fate in aula perché mi auguro che prima o poi ci torniate in aula, ce l'auguriamo tutti. Qui come riferimento rimando a un vademecum che secondo me ha fatto molto bene dal garante privacy di qualche anno fa, quindi deve essere del 2016, e ad alcuni video fatti dal garante privacy che vi farò vedere e vi citerò dopo. Questo vademecum è stato fatto prima dell'entrata in vigore del cosiddetto GDPR, quindi alcuni riferimenti normativi non sono aggiornati, però i principi generali in realtà in esso contenuti valgono ancora oggi, quindi non mi sembra particolarmente superata come fonte. Dall'indice di questo vademecum vedete quali sono anche i temi principali trattati, quindi c'è un'introduzione generale sui concetti di privacy che sono quelli che abbiamo visto in questa prima ora, ora e un quarto di seminario. Il concetto di trattamento, la distinzione tra scuole pubbliche e scuole private, qua non la trattiamo perché siamo nell'ambito di una scuola pubblica, non mi sembra il caso. La differenza tra dati sensibili e giudiziari che è stata in effetti superata, perché adesso non si parla più tecnicamente di dati sensibili ma di dati particolari, diritto di accesso ai dati personali che abbiamo visto, che è rimasto più o meno quello anche nel GDPR, e come e quando si verifica una violazione della privacy. Quindi queste cose in realtà le abbiamo più o meno viste. Iniziano delle parti tematiche da qua in poi che sono legate, vedete, una è la vita dello studente, una è il mondo connesso a nuove tecnologie, la pubblicazione online, la videosorveglianza e altri casi. La pubblicazione online, la parte sulla pubblicazione online forse può essere quella che torna utile anche nell'ambito della didattica a distanza, però pensate che si parla appunto del 2016 quando non ci si immaginava una rivoluzione così improvvisa come quella che abbiamo visto in questi tre mesi. Quindi comunque si parla di un vademecum pensato per l'attività didattica tradizionale, classica, in cui c'è una qualche parte che finisce online. Quindi, tornando alla vita dello studente, si parla ad esempio, non so, la lettura dei temi in classe, la comunicazione dei voti ed esami all'interno di una bacheca pubblica in cui possono passare tutti, la diffusione di comunicazioni scolastiche, di circolari, la gestione della situazione della disabilità e dei disturbi specifici dell'apprendimento, tema delicatissimo anche lì e che genera tutta una questione di una serie di questioni legate anche all'accessibilità che non è tema di oggi, però se vi interessa c'è il video di una mia lezione su come gestire questo aspetto. Va bene, gestione del servizio mensa, dalla scuola al lavoro, curriculum di identità digitale dello studente. Vi lascio leggere, queste parti qua sono molto chiare e intuitive, potete leggere da sole. Poi si va sulla gestione di alcuni aspetti un po' delicati, che sono, vedete, legati al cosiddetto cyberbullismo e altri fenomeni di rischio, non so, le sfide che si lanciano gli studenti, chi riesce a farsi la foto sul cornicione di casa sua più in alto, non so, queste cose qua, chi si fa del male facendosi dei tagli, fa la foto, situazioni in cui purtroppo i nostri studenti, i nostri ragazzi ogni tanto cadono, portate dalle nuove tecnologie che insomma il docente dovrebbe imparare almeno a riconoscere e a gestire. L'uso, ad esempio, il secondo punto è l'uso di smartphone e tablet, insomma, poi qua è sfuggita di mano, nel senso che adesso, prima si cercava di arginare un po' l'uso di smartphone e tablet, di colpo sono diventati invece gli strumenti che hanno salvato alcuni studenti dall'isolamento, nel senso che gli studenti che non avevano a casa un computer vero e proprio e una connessione internet casalinga hanno sfruttato il loro cellulare o il loro tablet per potersi connettere in questi mesi e rimanere connessi alle attività didattiche, quindi qua davvero è cambiato il mondo nel giro di pochissimo. Ecco, gestione delle immagini di recite e gite scolastiche, qua dopo lo vediamo, vorrebbe esserci la... mi sembra... no, non c'è, non l'ho messa, però va bene, la potete leggere da solo, e anche della registrazione delle lezioni e degli strumenti da parte degli studenti, cioè gli studenti possono o non possono registrare la lezione, gli studenti che hanno bisogno di registrarla perché per loro è l'unico modo per poi riuscire a studiare perché hanno appunto dei problemi di attenzione, di dislessia, di disabilità particolari. La parte sulla pubblicazione online, vi dicevo, può essere quella che entra in gioco e che può essere richiamata anche nell'ambito della didattica a distanza. Qua parla più che altro, vedete, pubblicità e trasparenza riguarda anche voi docenti, nel senso che pubblicità, nel sito pubblicità e trasparenza, scusate, nella sezione del sito in cui c'è la sorta di albo online della scuola, ci sono anche ad esempio le graduatorie del docente che ha chiesto trasferimento, che ha chiesto, che ha partecipato a una selezione per cambiare ruolo, via dicendo. Quindi ci sono le regole anche per come e in quali termini esporre queste informazioni che sono appunto delicate, perché a volte il docente non ha piacere di dimostrare che è arrivato ultimo in una gradatoria o che ha chiesto un aumento, che ha chiesto un'agevolazione perché è un soggetto svantaggiato e quindi in quali casi e in quali termini la scuola può pubblicare queste informazioni. Vabbè, portale unico dei dati della scuola, graduatorie del personale supplenze, pagamento del servizio mensa, servizi scuolabus, quindi questi riguardano invece più che altro i ragazzi. Sapete quanto c'è stata la polemica? Io, ahimè, sono proprio di quel paese, di quel posto. Vi ricordate che qualche anno fa un sindaco aveva messo, diciamo, esposto al pubblico ludibrio le famiglie che non erano in regola con il pagamento del servizio mensa, dividendo, facendo una lista di proscrizione di buoni e cattivi e soprattutto costringendo i ragazzi a portarsi il panino da casa perché i genitori non erano in regola con il pagamento del servizio mensa. Anche lì una questione, a parte di buon senso, di buon gusto e anche quindi politica, è proprio una questione di gestione del dato personale, cioè l'esposizione del dato personale non può mai essere una forma di forzatura di un pagamento, cioè non è che ti metto l'agonia perché così poi paghi. L'hanno fatto anche alcuni sindaci relativamente alla tassa rifiuti oppure al pagamento delle multe per divieto di sosta, no? Mettevano l'elenco dei non pagatori, dei cattivi pagatori, dei cittadini che non erano in regola e li costringevano a volte a chiedere scusa, a fare un messaggio di scuse pubblico, cose che cozzano appunto con un discorso, a parte appunto una questione di buon senso, di stile nella comunicazione pubblica, ma anche una questione di privacy, per cui il dato personale non può essere utilizzato, cioè non può essere distorto l'uso del dato personale per arrivare a quel tipo di fine. Ci sono poi delle norme, delle indicazioni sulla video sorveglianza, questo riguarda più che altro il dirigente scolastico, forse il DSGA, perché devono rispettare, ovviamente se mettiamo delle videocamere all'ingresso della scuola per evitare che ci siano i vandalismi, che ci siano di notte quelli che vanno a cercare di rubare i computer, via dicendo, chiaramente è legittimo, però dobbiamo rispettare le norme indicate dal GDPR e dalla vecchia normativa in materia di video sorveglianza. Vabbè, marketing, queste altre forme, questionari per l'attività di ricerca, appunto, sono case un po' particolari, non ci entriamo. Però vedete, ecco, la parte sul trattamento dei dati delle istituzioni scolastiche pubbliche, qua dice che le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari per il perseguimento di specifiche finalità istituzionali, oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti non sono tenuti a chiedere il consenso degli studenti, quindi non dovete di volta in volta chiedere il consenso per le attività istituzionali. Lo vedremo poi, questo tema ritorna anche nella didattica a distanza, garante è stato chiaro, anche quando si è passati nella didattica a distanza non era necessario mandare un specifico consenso, perché si esercitava sempre il famoso punto E dell'articolo 6. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie, come quelli sensibili e giudiziari, cioè quelli sensibili nella vecchia dizione, sono quelli relativi alla religione, all'etnia, allo stato di salute, e giudiziari quelli relativi al fatto che uno dei due genitori è in carcere, ad esempio, devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e la competenza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico che si intendono perseguire. Quindi questi dati che hanno una particolare delicatezza, sensibilità, nella vecchia dizione, devono essere, insomma, dobbiamo gestirli, trattarli, raccoglierli e trattarli solo se è proprio necessario. Vabbè, qua ci sono alcune, la lettura di un tema in classe, leggere un tema in classe, come d'altronde anche leggerlo durante una lezione di didattica a distanza, lede o non lede la privacy? Perché ovviamente nel tema a volte lo studente racconta i fatti suoi, racconta questioni della famiglia, no? Dalla lettura di un tema in classe si può capire se lo studente ha i genitori separati, se uno studente è orfano da parte di uno dei due genitori, se lo studente ha un genitore che è in carcere, non so, quindi cosa dice il garante privacy? Cioè dice che non lede la privacy di l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Quindi non dobbiamo ossessionarci da non dare temi che vanno a indagare l'aspetto personale e familiare solo per non ledere la privacy, questo sarebbe eccessivo. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, specialmente se riguardano argomenti delicati, quindi è affidato alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza previste per il corpo docente riguardo al segreto. Quindi non c'è un divieto a priori, però c'è un suggerimento nei confronti del docente di usare il buon senso e una sensibilità particolare nel capire quando è il caso di leggere un passaggio o meno quando invece è il caso di lasciar perdere. Scusate, dovevo andare a capo. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza, quindi siamo qua per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni. Anche i voti, allora voti di esami, gli esiti di escrutini degli esami di Stato sono pubblici, quindi gli esami di maturità o di terza media sono esami di Stato a tutti gli effetti, quindi devono essere pubblici perché si deve sapere chi è stato abilitato e chi non è stato abilitato. Le informazioni invece sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione. È necessario però che nel pubblicare i voti degli escrutini e degli esami nei tabelloni l'istituto scolastico evite di fornire anche indirettamente informazioni sulle condizioni di salute dello studente o altri dati personali, cioè se lo studente ha dovuto svolgere l'esame in un modo particolare perché è non vedente, questa cosa non deve emergere, non deve risultare neanche indirettamente sui tabelloni pubblici, ok? Vedete che se lo sfogliate questo va de me vi dà effettivamente delle indicazioni utili che alcune sono di buon senso altre sono proprio di carattere giuridico. Ci sono anche dei video, questi li potete anche mostrare ai vostri studenti, cioè sono dei piccoli video fatti con delle animazioni, sono dei cartoni animati che spiegano, fatti dal garante privacy, spiegano diciamo dei temi caldi nell'ambito della privacy e vedete i suggerimenti del garante, il primo parla dell'app prova di privacy nel senso che l'uso consapevole delle app sui propri smartphone, l'uso consapevole anche dei social network, quindi quando ti connetti connetti anche la testa, quindi ad esempio batte molto il chiodo sul rendere consapevole lo studente che la diffusione di un'immagine sui social network non è mai rivolta solamente a quella cerchia di persone a cui lui pensa di parlare, ma in realtà è tendenzialmente, si espone molto al rischio che poi venga a sua volta ridiffusa in altre piattaforme e di quell'immagine o di quel contenuto, di quel video si poi si perda il controllo, cioè sfuga di mano e quindi diventi una cosa che rimane su internet all'infinito e non viene mai rimossa. Fatti Smart è tutelato a privacy su smartphone e tablet, Spam, i consigli del garante per difendersi, Spam sapete che sono quelle informazioni, quelle solicitazioni commerciali non gradite, non richieste, che riceviamo spesso via email, e poi cookie e privacy. I cookie sono un'altra, vabbè, non ne abbiamo parlato oggi, cioè cookie sono qui, diciamo, sorte di softwareini che vengono installati sul nostro computer attraverso il browser per rendere la navigazione più efficace, ma a volte alcuni di questi fanno anche un'attività di tracciamento, di profilazione dell'utente, no? Quindi quando un cookie è di profilazione, richiede, il GDPR richiede una serie di cautele maggiori. E sono quelle cose che accettate, no? Quando aprite un sito che non avete mai aperto, vi si apre quella specie di banner in sovraimpressione con scritto accetti i cookies, no? I cookies sono sta roba qua, i cookie vuol dire biscottino, biscotto in dolcetto in generale, in inglese, è una metafora perché è un dolcetto che si dà al browser per farlo funzionare meglio, per rabbonirlo probabilmente, e però innescono un problema di privacy perché accettando dei cookies stiamo accettando di far vedere, anche se parzialmente, dove stiamo navigando e che attività stiamo facendo su quel sito. Quindi il gestore del sito riceve delle informazioni maggiori rispetto a quelle più generiche sull'indirizzo IP e sul tipo di connessione che sono quelle che normalmente i browser comunicano, no? Quindi ecco, è un problema che riguarda più che altro coloro che fanno siti web, quindi riguarda più che altro il dirigente scolastico che si occupa del gestire il sito web della scuola. Quindi ecco,